Qual è stato anche l'incontro, di cosa avete parlato e se ci sono state delle promesse da parte della sindaca? Allora noi abbiamo ripreso il rapporto col sindaco, dottoressa Episcovo, che per anni ha lavorato già con l'università, sia come personale a contatto e anche stata difensore degli studenti, quindi ha già una conoscenza prolungata. Naturalmente noi abbiamo chiesto aiuto per le ricerche di spazi e dei trasporti per gli studenti, che hanno problemi da muoversi, soprattutto i pendolari, dalla stazione al centro. Comunque si è subito stabilito un buon rapporto e sono certo che le due istituzioni collaboreranno nel futuro. Quali spazi vi sono stati accordati? Anche gli spazi della fiera? Ci può annunciare qualcosa? Si è parlato di varie cose. Innanzitutto lei ha confermato la volontà di Cardellicchio, non so se lo sapete, del distretto militare, che in parte era stabilito fare un museo e in parte doveva andare all'università. Vediamo adesso la regione si è d'accordo e poi nel futuro lei cercherà dei spazi da accordarci. Grazie per la visione!